Life Help Soil, per un'agricoltura sostenibile. Equilibri biologici, sviluppo di ecosistemi vitali e fertili, benefici ambientali. È possibile oggi ricreare tutto questo attraverso un'agricoltura responsabile e produttiva. L'agricoltura conservativa va in questa direzione. Il progetto Life Help Soil è iniziato nel 2013 e ha una durata complessiva di 4 anni. Nel progetto sono coinvolte 20 aziende agricole della pianura padana e delle zone collinari limitrofe. Abbiamo costruito con tutte le regioni della pianura padano-veneta un programma Life finanziato dall'Unione Europea che ha la finalità di testare in 20 stazioni l'agricoltura conservativa nelle situazioni più difficili. Quindi situazioni di terreni argillosi, situazioni di terreni in collina, situazioni di terreno di maestro come questo qui. Perché riteniamo che l'agricoltura conservativa sia una risposta efficace ai cambiamenti climatici ma anche a dare degli strumenti affinché le aziende agricole stiano ancora sul mercato e continuino a fare questa bella agricoltura. Estendere e diversificare le rotazioni culturali. Ridurre le lavorazioni del terreno. Mantenere sul suolo una copertura vegetale permanente con residui culturali e cover crops. Questi sono dunque i principi dell'agricoltura conservativa. Nelle aziende del progetto, dove tali pratiche sono attuate, vengono monitorati dati agronomici, tecnici e gestionali e quelli relativi alla qualità e funzionalità dei suoli. Applicarle produce questi benefici. Miglioramento della fertilità fisica, chimica e biologica dei suoli. Aumento della biodiversità. Sequestro di CO2 dall'atmosfera. Riduzione dei consumi di combustibile e dei costi di produzione. Stabilità delle produzioni salvaguardando la loro qualità. Protezione dei suoli dall'erosione. Fare agricoltura conservativa significa dunque innovare e saper guardare lontano per mantenere la produttività delle colture e la redditività aziendale nel rispetto degli equilibri ambientali. Ma anche rinforzare le capacità del territorio di assorbire gli impatti del cambiamento climatico. Life Help Soil Per un'agricoltura sostenibile Per un'agricoltura sostenibile Per un'agricoltura sostenibile Per un'agricoltura sostenibile